cari amici di mille un'avventura si avvicina l'if comp 2024 questa competizione tra autori di avventure testuali che avrà luogo a settembre la fase di votazione c'è tempo tutto luglio per dichiarare la propria intenzione di partecipare e agosto per terminare l'opera il primo settembre ma controllate bene le date qui sotto troverete il link a un video che vi spiega tutti i passaggi per partecipare a questa competizione di avventure testuali in inglese ecco questa è forse la cosa che ci blocca di più come italiani la conoscenza perfetta dell'inglese che bisogna avere per poter scrivere qualcosa che sia accettato internazionalmente ma se non avete di questi problemi ecco non vi resta che selezionare uno dei tanti engine per creare avventure testuali qui su borogov.app anche questo sito lo troverete linkato qui sotto ma ne ho già parlato tante volte sul canale ebbene qui trovate inform 7 inform 6 hugo dialog inc addirittura dietro di me dendry che non so assolutamente cosa sia ma è sicuramente uno strumento di sviluppo di avventure testuali valido visto che l'autore di borogov.app lo ha incluso nel suo elenco ora che cosa succede qui su borogov beh se avete un'idea per creare un'avventura testuale per esempio con inform 7 potete iniziarla scrivendo il codice sorgente da questa parte e vedendo l'effetto che fa qui sulla destra dopo aver premuto il pulsante go tanti video sul canale su questo argomento perciò non mi soffermo il problema che potremmo avere a parte l'inglese a parte avere una buona idea è che per creare un'avventura testuale vecchio stile diciamo anni 80 ci vogliono tante locazioni e il problema di inform 7 per esempio se avete intenzione di utilizzare questo strumento di sviluppo è che è molto verboso bisogna scrivere tantissimo per collegare una stanza con un'altra per definire delle porte per creare degli oggetti all'interno delle stanze a questo proposito vi suggerisco come avete visto all'inizio del video di usare tritzboard.io crea mappe in pochi minuti mappe e design nel tuo browser per i giochi avventure testuali è un sistema che può anche essere usato online come vediamo adesso crea la tua prima mappa ecco vedete che qui ho già alcune stanze inserite perché ho fatto ovviamente una prova per capire come funzionava tutto non è cambiato molto da da qualche tempo a questa parte e quindi come vedete ci sono dei rettangolini vediamo se riusciamo a ingrandire un po poi vorrei spostarmi no così vorrei spostarmi ecco qua e poi vorrei spostarmi anche da quella ecco adesso ho capito che tenendo premuto il pulsante medio ecco qui vedete ovviamente vi parlavo della if comp che è in inglese perciò scriviamo tutto quanto in inglese vedete che qui abbiamo una cucina una sala da pranzo un giardino e potremmo aggiungere per esempio un'altra stanza qui sotto allora hai piazzato la tua prima stanza poi editare i dettagli cliccando sulla stanza allora ecco qui la stanza si salva tutto nel browser quindi vi consiglio però di salvare anche il lavoro da qualche parte c'è scritto come salvare la mappa su un file quindi potete poi caricarla quindi non c'è problema potete lavorare online tranquillamente vedete che è comparsa questa stanza aggiuntiva e non ci sono oggetti cambiamo il nome della stanza la cucina abbiamo detto c'è la sala da pranzo e ci mettiamo il bagno quindi la stanza da bagno si può aggiungere un sottotitolo si può stabilire se è una stanza scura se è una stanza da cui inizia il gioco se è la stanza in cui termina il gioco per quanto riguarda le avventure testuali a voi non importa la forma della stanza però potete anche cambiarla mentre create la mappa per essere un po più così attirati anche dal punto di vista grafico dal dalle diverse forme e poi ci vuole la descrizione della stanza potremmo scrivere una una grande un grande bagno niente di che non abbiamo scritto chissà che cosa volendo si possono aggiungere anche degli oggetti possiamo aggiungere degli oggetti e trascinare un oggetto su un altro per fare in modo che un oggetto sia contenuto nell'altro come che so una palla dentro una scatola una penna sopra il tavolo e così via comunque noi adesso aggiungiamo solo un oggetto nella stanza da bagno ci sarà il sapone quindi mettiamo sapone descrizione un sapone profumato come si scrive profumato in inglese me lo invento però voi se scrivete un'avventura per la if comp mi raccomando controllate il la sintassi tutto quanto perché sono molto fiscali da questo punto di vista potremmo aggiungere un secondo oggetto che cosa ci può essere in un bagno un tappeto tappetino tappetino colorato ed ecco che abbiamo aggiunto il nostro secondo oggetto e così via ecco vedete le stanze si possono poi modificare ho sbagliato e questo vorrei toglierlo ecco però vedete che ci sono già delle connessioni qui vedete connector gli potete dare un nome al connettore lo potete fare curvo si può fare in tanti modi diversi il tipo quindi creare delle mappe con questo strumento è molto facile ora la cucina la colleghiamo al bagno non è che sia il massimo dunque per collegarla al bagno come posso fare a così ecco si devono comparire i vari pallini qua se invece vedete i quadratini si ridimensiona la stanza e poi il bagno lo colleghiamo anche al giardino così tanto per non avere troppi oggetti bene abbiamo creato la nostra mappa ovviamente questa mappa è molto piccola ora vi mostro una mappa invece piuttosto ampia che ho realizzato per un gioco di tanti anni fa per una marmellata d'avventura e che qualcuno si è dato la pena di mappare completamente anche se l'avventura era incompleta eccola qui la mappa che avevo creato come vedete una mappa molto ampia se ne vede solo una piccola parte in questo video del 2021 addirittura hanno mappato base antartica siegfried che era questo questa avventura testuale in cui avevo realizzato una enorme mappa che poi non è mai stata completata con tutto quello che dovevo inserire era presente solo un rompighiaccio con tutte le sue varie cabine però vedete con trisboard cosa si possa creare in modo assolutamente ampio e dettagliato ma torniamo a trisboard ora cosa si può fare dopo aver creato la mappa ovviamente questa mappa molto piccola però è un esempio ebbene si può cliccare qui e andare a cercare l'opzione adesso qui devo probabilmente ridurre un pochino perché ecco qui nel menu non file dove si può salvare il lavoro che state facendo oppure i settings vedete qui c'è anche il menu export e export vi permette di esportare la vostra mappa in tanti formati diversi tanti quanti sono i principali motori per creare avventure testuali si va da tads un particolare strumento di sviluppo di sviluppo inform 7 zil qui in fondo addirittura il un formato che risale agli anni 80 passando per alan quest e così via noi vogliamo esportare questa mappa per inform 7 vedete che è stata esportato il file untitled.ni perché non ho dato il nome alla mappa adesso ci chiederà si apre visual studio code e ci fa vedere il codice generato dalla mappa e vedete che c'è il titolo e ci sono tante altre cose che sono le varie stanze già predisposte con le varie connessioni quindi vedete che tutto questo lungo testo eccolo qui che non è lunghissimo perché sono solo quattro stanze però tutto questo lungo testo permette di creare le connessioni tra le varie stanze mancano ovviamente le descrizioni manca tanta roba che serve per rendere l'avventura fruibile però adesso potremo tornare su borogov qui cancellare questi dati che sono qui e sostituirli con questa parte automaticamente creata ecco sto notando che ci sono alcuni problemi per esempio la cucina la creata c'è una stanza chiamata cucina il la stanza da bagno che aveva una descrizione non c'è la descrizione che abbiamo inserito quindi solo alcune cose purtroppo vengono prodotte da trisboard non tutto perciò se volete usarlo per creare avventure testuali per esempio con inform set tenete conto che è inutile essere troppo dettagliati bisogna mettere semplicemente le stanze all'interno della mappa i vari collegamenti vengono eseguiti ma descrizioni anche gli oggetti vedete sono problematici perché non ha qui c'è scritto hey is in dining room se andate a vedere cosa c'era nella stanza da pranzo c'era il tavolo perciò vedete che anche aggiungere gli oggetti questa è una bella limitazione aggiungere gli oggetti ve li scriverebbe ma non vi metterebbe il nome faccio una prova così adesso vediamo un attimo per esempio riprendo il tavolo quindi andiamo nella dining room oggetti e no sia il nome del tavolo che la descrizione non sono stati riportati e quindi è inutile mettere gli oggetti peccato perché sarebbe comodissimo e bisognerebbe far notare questa cosa e farli aggiungere perché troppo comodo e così avevamo aggiunto il tappeto il carpet e poi cosa c'era il sapone e anche questi mancava il nome all'interno del del testo ora dovrebbe essere tutto a posto possiamo provare a eseguire vediamo se ci sono degli errori non ci sono errori quindi l'avventura è in fase di esecuzione vi ingrandisco un po così lo vedete e ovviamente non c'è la descrizione qui dovremmo scrivere qui dice c'è una stanza chiamata cucina e potremmo mettere una un'ampia stanza dove si cucina adesso non è che abbia molta fantasia no però era solo per far capire che bisogna fare delle aggiunte dopo aver inserito vedete kitchen un'ampia stanza dove si cucina ovviamente avrei dovuto scrivere in inglese ma è solo per capire ora la cucina vedete è a ovest della dining room quindi bisognerebbe aggiungere nella descrizione a est si va verso la sala da pranzo mentre al sud c'è il bagno ecco qui adesso eseguendo dovremmo avere una descrizione un po più completa e potremmo adesso scrivere e per est e vedete che siamo andati nella dining room e ci dice qui puoi vedere un tavolo ovviamente ho dovuto aggiungere io table perché non era scritto automaticamente se torniamo a ovest torniamo no scusate ovest qui siamo in inglese dobbiamo scrivere w cioè west se andassimo a sud finiremmo nella stanza da bagno dove possiamo vedere un tappeto e un sapone quindi trisboard se avete una mappa molto molto ampia potrebbe essere un'idea utilizzarlo per fare le varie connessioni tra le varie stanze e non perdervi in tutte queste chiacchiere che inform 7 vi obbliga a fare sul canale ci sono tanti tutorial su come utilizzare inform 7 magari qui sotto in descrizione troverete il link ad alcune alcune playlist che potreste vedere per capire come funziona per il resto non c'è niente da installare perché potete usare direttamente borogov.app direttamente dicevo nel vostro browser e ottenere questi effetti particolari ora se non ricordo male se torniamo a nord ovviamente andiamo di nuovo in cucina a est si va in sala da pranzo se andiamo a sud dovremmo finire nel giardino e qui vedete garden senza descrizione senza nulla perché se scendiamo ecco qui c'è una stanza che si chiama giardino a nord del a nord del giardino si trova la dining room e quindi noi siamo a sud della dining room ovest del giardino c'è la stanza da bagno e quindi se ora scrivo w vedete finisco nella stanza da bagno e se vado a nord finisco in cucina quindi può essere un'idea anche se purtroppo questo tridsboard ha delle limitazioni notevoli potrebbero in effetti renderlo un po più fruibile da questo punto di vista proviamo a vedere per finire proviamo a esportare in tads che è un altro strumento di sviluppo eccolo qui t3 proviamo ad aprirlo ora mi chiederà con cosa vuoi aprire il file t3 usiamo blocco note così facciamo prima vediamo se è un po più comprensibile allora tridsboard è un po più diciamo simile come no scusate tads è più simile come il c come formato quindi non è discorsivo non è verboso allora qui vedo cucina la stanza cucina a est c'è la dining room sud la il bagno vedete che qui ci dice che c'è un oggetto che si chiama tavolo e quindi già è più approfondito questa esportazione per tads perché gli oggetti li scrive correttamente il tavolo però dove era nella dining room andiamo a cercare probabilmente in tads si fa così si specifica una stanza e poi si aggiungono gli oggetti quindi probabilmente usando tads questa esportazione da tridsboard dovrebbe funzionare meglio però tads crea solo avventure in inglese molto più dettagliato ancora più dettagliato di inform set che è già dettagliatissimo come mondo in cui far avvenire le nostre avventure però avventure in italiano non si possono fare nessuno si è mai dato la pena di tradurlo ed è molto complicato però per un'avventura in inglese ci si può fare un pensierino bene a me non resta che dirvi pensate la vostra avventura per la if comp 2024 avete tutto luglio per decidere se partecipare oppure no poi basta che diciate partecipo sul sito qui sotto trovate il link al video che spiega tutto e poi avete ancora agosto per finire l'avventura non c'è molto tempo bisognava pensarci un po prima a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti se tutto al compiuto mille idee sfido ogni avventura con la mia fedeltà mille è un'avventura il canale che sa tutorial di programmazione per la mia realtà ciao a tutti